Grazie Presidente, grazie al collega Senatore che parla di blackout infrastrutturale in conseguenza di scelte legittime da parte di un Governo che cerca finalmente di riacquilibrare gli interessi e diritti legittimi dello Stato nei confronti degli interessi legittimi ma enormemente sproporzionati da parte dei concessionari. Io questo blackout infrastrutturale purtroppo l'ho visto quando ho visto crollare quel ponte con sotto 43 vittime e non certamente con l'iniziativa di ristabilire quest'ordine di importanza dello Stato nei confronti di un privato. Detto questo, rispondo innanzitutto alla domanda che è appena posto e che riguarda quando il Ministro ritenga di rendere noto al Parlamento il lavoro svolto dalla Commissione di giuristi sulla vicenda del ponte Morandi. Sono lieto di comunicarle che il lavoro svolto dal gruppo di lavoro dei giuristi istituito con un decreto ministeriale del marzo del 2019 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti già nove giorni fa e che penso sia anche cosa nota a tutti e pertanto fin da allora è disponibile a chiunque, compreso il concessionario, compreso lei ma anche qualsiasi cittadino che vuole entrare sul sito del Ministero delle Infrastrutture. Operazioni di trasparenza che c'è da quando c'è il Movimento 5 Stelle, da quando ad esempio abbiamo pubblicato per la prima volta nella storia gli allegati di quei contratti concessori in cui si capiva come mai si arricchivano enormemente questi concessionari. In quella relazione che potevate esaminare integralmente in qualunque momento da quel 2 luglio è riportato tra l'altro che lo Stato, questo è un passaggio fondamentale fatto da giuristi e commissioni indipendenti, che, ripeto, lo Stato in qualità di concedente rappresenta l'interesse generale di tutti nell'accordo con il concessionario privato e dunque può far valere la grave responsabilità del gestore. Il concessionario ha reso per un tempo comunque lungo il bene costituito dal Ponte Morandi inutilizzabile, con gravissimi effetti in termini di vittime, danni morali, economici ed immagine per lo Stato stesso. Siamo dunque di fronte ad un inadempimento che i giuristi del gruppo di lavoro definiscono di particolare gravità e definitivo. è venuto meno l'obbligo di custodia, del bene assentito in concessione, l'obbligo di restituzione perché è bene corollato e non può più essere restituito, ovviamente anche il grave inadempimento per mancanza di manutenzione. La relazione dice tra l'altro che dal 2005 ad oggi sono stati spesi soltanto 440 mila euro per la manutenzione strutturale del Ponte, 440 mila euro, mentre nella fase pre-privatizzazione erano stati spesi 1 milione e 300 mila euro all'anno, quindi è una prova provata dai numeri presenti nelle relazioni tecniche che non hanno investito. Nella vostra domanda gli interroganti mi ricordano inoltre che nella nota di Autostrade per l'Italia viene specificato che i termini della Convenzione prevedono nella denegata ipotesi di revoca il pagamento di un cosiddetto indennizio che corrisponde al giusto valore della concessione, vostro quesito. Prendo atto che i parlamentari dell'opposizione abbiano assunto, e mi dispiace, il ruolo di avvocati di Autostrade per l'Italia, credetemi che c'è già un elenco infinito di studi legali che stanno tutelando gli interessi privati sproporzionati dei privati nei confronti dello Stato, però siccome rappresentiamo lo Stato e le istituzioni l'interesse generale, ricordo però che loro dovrebbero conoscere bene i termini assurdi di quella Convenzione, perché sono stati loro, siete stati voi ad approvarla con la legge 101 del 2008, una delle prime leggi votate dai parlamentari di Forza Italia nella sedicesima legislatura. Avete votato una parte, un emendamento, chiaramente nullo, che dice che se io Stato ti revoco legittimamente perché hai fatto crollare un ponte, io Stato ti dovrei pagare fino al termine di questa concessione. Norma illegittima, norma nulla, addirittura definita dai giuristi, indipendenti, eccentrica e in quanto tale nulla. L'articolo 9 bis della Convenzione, secondo la relazione degli esperti, è nullo, perché rispetto ai motivi della risoluzione anticipata, non distingue tra quelli imputabili al concedente, quelli legati all'interesse pubblico e quelli connessi all'inadempimento del concessionario, distinzione che invece è contemplata dalla legge, codice dei contratti. Quella clausola è eccentrica rispetto al sistema delle responsabilità contrattuali e manifestamente nulla sotto vari profili. Inoltre garantisce a una delle parti una condizione di sostanziali immunità e privilegio, immunità e privilegio legificato purtroppo da Forza Italia. In più l'articolo 1229 del Codice Civile sanziona con la nullità anche dal centro-sinistra. Ricordiamoci che il decreto legge parte dal centro-sinistra ed è stato ratificato e convertito in legge dal centro-destra. Signor Ministro, la inviterei a concludere perché siamo ben oltre i tempi stambini. Grazie Presidente, mi accingo a concludere. Per far sì che lo Stato italiano sottoscrivesse queste contratti con dei privati, contratti che contrastano con l'ordine pubblico economico, i governi precedenti hanno dovuto fare una legge porcata perché le amministrazioni dello Stato e la Corte dei Conti non avrebbero potuto far passare una cosa del genere, visti gli evidenti rischi per l'erario. Per questo fu fatto un decreto legge varato dal Governo Prodi e successivamente convertito, come detto, in legge dal Parlamento a maggioranza berlusconiana. Noi stiamo ovviamente faticando per rimediare a questi catastrofici errori. Noi agiamo secondo la ferma volontà politica di non lasciare che i fatti avvenuti a Genova restino privi di conseguenze. E più in generale, concludo Presidente, puntiamo a riequilibrare i rapporti tra concessionari privati e concedente pubblico per rimettere al centro i cittadini. A questo proposito ricordo che sono in fase di attuazione i provvedimenti in questo settore conseguenti al Decreto Genova da parte dell'autorità di regolazione. E mi accingo a concludere, ha parlato anche del dossier all'Italia. Evidentemente si tratta di due dossier distinti. Non sottosteremo mai al ricatto eventuale di chi per entrare all'interno di un dossier tanto importante come all'Italia cerca dall'altra parte di ottenere un salvacondotto. salvacondotto con questo Governo, con il Movimento 5 Stelle al Governo, non verrà mai rilasciato.